Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Una recente fotografia ha riacceso le speranze di ritrovare Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo nel 2004. La notizia ha attirato molta attenzione, anche se per ora si tratta solo di ipotesi. Piera Maggio, madre di Denise, ha confermato che la foto mostra una ragazza che somiglia molto alla sua figlia scomparsa, spiegando, non mi faccio illusioni per una foto. Ma ogni immagine che potrebbe raffigurare mia figlia viene analizzata attentamente. Nel guardare questa nuova immagine, Piera ha espresso il desiderio di ottenere maggiori informazioni. Chiarando che stanno cercando di capire sia l'anno in cui è stata scattata sia l'identità delle persone presenti. Nel frattempo, il padre di Denise, Antonio Pipitone, ha depositato una nuova istanza al Tribunale di Marsala il 30 maggio. Supportata da tre relazioni tecniche firmate dalla criminologa Antonella Pesce Delfino, dall'investigatore Giuseppe Asaro e dalla consulente grafica Katia Sartori, che ha analizzato accuratamente i dettagli dell'immagine. Gli inquirenti valuteranno ora se riaprire le indagini sulla scomparsa di Denise in base ai nuovi elementi forniti. Il caso continua a suscitare grande interesse in tutta Italia, con Piera Maggio che da anni mantiene alta l'attenzione mediatica partecipando a programmi televisivi e rilasciando interviste. La ricerca della verità non si è mai fermata, la famiglia non ha mai smesso di sperare e di lottare per ritrovare Denise, con l'obiettivo di poter un giorno riabbracciare la figlia scomparsa. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!